Si è tenuta a Roma la riunione del coordinamento regionale calabrese di Forza Italia alla presenza dei deputati Iole Santelli, coordinatrice regionale Roberto Occhiuto, vice capogruppo vicario alla Camera, Francesco Cannizzaro e Maria Tripodi, dei senatori Giuseppe Mangialavori e Marco Siclari, dei consiglieri regionali Domenico Tallini, Claudio Parente, Gialuca Gallo, Giuseppe Pedà e Vincenzo Pasqua. Alla unanimità si è deciso di offrire alla valutazione del presidente Silvio Berlusconi e degli alleati di centrodestra quale candidato della coalizione della presidenza della regione Calabria il nominativo del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, anche egli presente ai lavori del coordinamento. Il senatore Siclari, pur convergendo anche egli sul nominativo proposto, ha sostenuto l'opportunità di assumere determinazioni dopo lo svolgimento delle prossime elezioni europee. Al termine di ampia aperta discussione, il coordinamento ha ritenuto di dover procedere con immediatezza alla formalizzazione della proposta. L'indicazione di Occhiuto, peraltro molto attesa da più parti in Calabria, soprattutto dalla società civile, alla luce delle capacità dimostrate per i meriti acquisiti sul campo dal brillante sindaco della città dei Bruzzi, gode del sostegno dei rappresentanti di Forza Italia e di tutto il territorio calabrese ed interpreta al meglio le reali istanze di cambiamento in alternativa al fallimentare governo di centro-sinistra a guida Oliverio.